venerdì 13 settembre 2024 presentazione di tramandare il fuoco per un approccio libertario alla questione palestinese una critica a essenzialismo e nazionalismo questo puscolo nasce dalla necessità di immaginare praticare una diversa prospettiva politica alla lotta contro il genocidio a gaza e più in generale a tutte le guerre e ad ogni dinamica escludente presentazione con i compagni e le compagne dell'assemblea antilimitarista torinese e della federazione anarchica torinese che dicono di loro non siamo storici sociologi politologi o filosofi e non pretendiamo di esserlo siamo antimilitaristi ed anarchici ed è interrogando il nostro posizionamento verificandone costantemente la validità interpretativa che abbiamo lavorato singolarmente e collettivamente buona visione la poria è un qualche cosa senza senza possibilità di risoluzione no è come entrare in un vicolo e alla fine scopri che è chiuso e non sai più da che parte andare se non ritornare sui stessi passi e in qualche modo noi siamo anche ritornati sui nostri stessi passi perché ci siamo interrogati abbiamo interrogato costantemente il nostro posizionamento abbiamo interrogato costantemente cioè il nostro disagio rispetto a questi a questi movimenti proprio perché ci pareva che ci fosse qualche cosa che non andava che ci fosse qualche cosa che non funzionava cioè le stesse persone che abbiamo visto scendere in piazza per esempio a sostegno del rojava a sostegno dell'autonomia del nord della siria a sostegno di percorsi che anche diversi da quelli anarchici si ponevano contro le frontiere cioè io la prima volta che ho sentito parlare una compagna del rojava lei diceva noi viviamo come se le frontiere non esistessero più noi viviamo e vogliamo vivere facciamo una pratica che è tale che anche se le frontiere ci sono per noi non ci sono più noi vogliamo costruire una realtà confederale che non ha nulla a che fare con un'entità di carattere statuale lontano diverso da noi con ovviamente tante questioni sulle quali si potrebbe discutere magari un'altra volta ma certamente un approccio internazionalista un approccio aperto la prima volta che ho sentito questa compagna parlare lei diceva cioè noi qua siamo kurdi prevalentemente ma poi ci sono persone di tante altre etnie iper minoritarie e ciascuna di queste è importante il nostro è un progetto di carattere inclusivo inclusivo ma non di negazione di identità inclusivo nel rispetto delle identità nel rispetto dei percorsi nel rispetto delle sensibilità ecco tutto questo no di fronte alla questione palestinese si è trasformato in una acritica adesione in una critico sostegno alla cosiddetta resistenza palestinese io sono perfettamente consapevole noi siamo perfettamente consapevoli del fatto che quello che sta avvenendo da quasi un anno a Gaza è qualcosa di assolutamente mostruoso è qualcosa di assolutamente mostruoso uomini donne e bambini macellati quotidianamente uomini donne e bambini considerati alla stregua di cose è ovvio che di fronte a tutto questo non si può né tacere né avere dubbi e da questo punto di vista il nostro posizionamento è senza se e senza ma noi siamo a fianco di tutti gli uomini donne e bambini vittime di guerra siamo a fianco di tutti gli uomini e bambini massacrati a Gaza ma noi siamo anche consapevoli che i 1200 persone ammazzate da Hamas in Israele erano uomini donne e bambini esattamente come quelli di Gaza e noi non possiamo accettare che qualcuno chiami quell'attacco che qualcuno chiami quel massacro resistenza questa non è resistenza la resistenza la fai nei confronti di un esercito la fai nei confronti degli occupanti la resistenza la fai nei confronti di chi ti opprime come nemico di classe andare a massacrare gente di kibbutz e quelli di confine si sapeva benissimo essere quelli di più di sinistra più orientati io non potrò mai dimenticare la testimonianza di un ragazzo i cui genitori erano entrambi morti in uno di questi kibbutz e che parlando dei suoi genitori ha detto loro non vorrebbero mai vendetta loro non vorrebbero mai quello che sta accadendo adesso a Gaza perché loro finché le frontiere sono state aperte erano solidali con i loro vicini pochi metri più in là neanche chilometri flash geografico quando stiamo parlando di questa regione tutta quanta questa zona quello che è lo Stato Israele prima dei confini del 67 la Cisgiordania Gaza le alture del Golan tutta questa roba insieme è grande come la Lombardia quindi stiamo parlando di qualcosa di estremamente complesso ed esplosivo ma stiamo anche parlando di qualche cosa in cui se tu i confini li vuoi eliminare li elimini allora questo ragazzo parlando dei suoi genitori morti morti durante l'attacco del 7 di ottobre lui disse a chiare lettere loro non l'avrebbero mai voluto loro finché hanno potuto hanno avuto rapporti solidari loro davano una mano quando qualcuno a Gaza aveva bisogno di un'ambulanza e l'esercito gli permetteva di passare di far passare le gente di farle andare negli ospedali di fargli avere qualche cosa di quel che a loro era negato in quella scatola di sabbia circondata dall'esercito che era ed è Gaza perché l'ho detto l'ho detto perché noi dobbiamo sempre pensare che quando si parla di persone non si può mai genericamente dire gli israeliani i palestinesi questo è un occhio di tipo nazionalista ed è costitutivamente escludente costitutivamente escludente non c'è nessuna altra possibilità ogni volta che qualcuno cerca di rinchiuderti dentro la nozione di popolo il popolo israeliano il popolo palestinese ecco la nozione di popolo è una nozione del tutto inventata culturalmente del tutto inventata naturalmente i nazionalisti di tutte le attitudini ci vengono a raccontare ma esiste un'unità culturale così esistono legami di sangue esiste come dire parliamo la stessa lingua ecco quello che non ci dicono ma che noi dobbiamo cercare di ricordare perché questo paese l'abbiamo vissuta sulla nostra pelle e che l'unità di lingua ad esempio è qualcosa che segue che segue non precede la nascita di una nazione alla nascita di uno stato nuovo siamo a trieste lo sapete benissimo l'italia io non faccio mai l'esempio di altri posti perché mi sembra molto più facile fare l'esempio dell'italia l'italia del 1861 era un'italia in cui nemmeno i governanti sabaudi parlavano l'italiano nemmeno i governanti sabaudi parlavano l'italiano la famosa frase abbiamo fatto l'italia adesso dobbiamo fare gli italiani era un modo per dare un'indicazione concreta che per rendere vero l'adesione al nuovo stato unitario occorreva omogenizzarlo cancellare le differenze eliminare le lingue tutte quante degradate a dialetti a dialetti a varianti di una lingua qualcosa assolutamente non vera pensate che cosa è stata la terrificante espansione ad est pensate che cosa è significato quello che è stato questo confine intorno al quale ancora oggi voi e noi viviamo che cosa è significato eliminare con la forza una lingua che cosa ha significato cancellarla allora se pensiamo a questo ci rendiamo conto che la nozione di popolo a partire dalla nozione di popolo italiano è una nozione costitutivamente escludente è una nozione che nasce ed è nata sulla violenza escludente nei confronti della colonizzazione interna che c'è stata nel nostro paese e che continua tutto adesso nell'esclusione degli ultimi arrivati nell'esclusione dei migranti nell'esclusione dei ragazzi e delle ragazze nate in questo paese ma considerate straniere che continua e che con lo quale abbiamo costantemente a che fare quando io vedo la gente di questo paese che va in giro con la bandiera palestinese quella di un altro nazionalismo ecco io dico molto banalmente noi non sventoleremo mai quella bandiera ma perché siamo troppo impegnati a fare pezzi stracciare e bruciare quella bianca rossa e verde perché il nostro auspicio è quello che da chiunque prenda tutte queste bandiere io c'è un piccolo sogno immaginare gente di ogni dove che prende la bandiera del paese in cui è nato e nello stato in cui è stato obbligato a vivere la butta in un enorme falone nel quale bruciano tutte quante insieme quella italiana quella palestinese quella israeliana qualsiasi altra bandiera no qualsiasi altra bandiera perché questa bandiera rappresenta una barriera rappresenta una separazione rappresenta un modo per dire questi sono gli inclusi questi sono quelli che escono fuori quelli che hanno diritto e gli altri sono quelli che non hanno diritto la storia dei nazionalismi europei il nazionalismo è un'invenzione moderna nasce in europa alla fine del novecento è tutta intrisa di sangue quante popolazioni in questo periodo hanno sono state spostate a forza quante popolazioni sono state obbligate all'esilio quanti greci vivevano da sempre sulle coste turche quanti turchi vivevano in quello che oggi è il territorio greco eppure quando ad un certo punto la logica nazionalista è diventata prevalente in grecia in turchia ci sono stati in mani esodi di popolazione nelle due direzioni non state queste persone vivessero in quei posti in quei paesi da centinaia e centinaia e centinaia di anni quando io sento qualcuno dire la palestina storica la grande israele invenzioni culturali invenzioni culturali lì fino al 1848 c'era stato l'ultimo dei domini coloniali quello inglese quello britannico fino al 1848 900 credo pardon vedete che rincoglionisco però grazie a voi ce la faccio fino al 1948 c'era il nazionalismo prima c'erano gli ottomani prima c'erano gli ottomani il nascente nazionalismo palestinese e israeliano viene alimentato contemporaneamente dai britannici durante la prima guerra mondiale per cercare di creare alleanze contro gli ottomani e a giudicarsi in proprio quei luoghi e giudicarseli per se stessi non a caso dopo non hanno mantenuto nessuno delle promesse però intanto quei nazionalismi cominciavano a germinare cominciavano ad inventarsi delle radici identitarie ma il nazionalismo in quanto tale è sempre costruito sulla base di una cassetta degli attrezzi che lì è fatta di memorie memorie che possono diventare vive o restare tali che possono morire o restare tali ma all'interno delle quali si sceglie vi faccio un esempio facile facile perché è recente quando il signor bossi decise di inventarsi la padania e c'aveva un grosso problema no perché lui voleva inventarsi la padania sulla base di territori e popolazioni che parlavano lingue diverse che mangiavano cose diverse che avevano storie diverse inventandosi che erano tutti la stessa cosa allora è andato a grattare in giro detto cosa mi invento cosa pesco come faccio a dire che la padania è legittima allora ha detto i celti qui a un certo punto era pieno di celti nessuno si ricordava più di essere stato celto nessuno ci sono tre o quattro parole celte che navigano in mezzo alle nostre lingue del nord ma sostanzialmente di questa storia scelta nessuno senza più un accidenti però va bene no ci sono i celti poi bisogna trovare una fondazione mitica vabbè c'è il po no la padania è quella del po quindi diamo le armonviso le sorgenti prendiamo l'ampolla voi mi dite tutta roba da ridere tutta roba da ridere perché è finita bene nel senso che quel pezzo lì è morto e quindi poi è andato a venezia tutte le storie che si sono inventati per costruire la padania ma con storie analoghe hanno costruito altre identità altre grandeur che tutte quante si basano sulla negazione di tutto quello che non è conforme di tutto quello che non rientra nel solco di tutto quello che non è omogeneo e allora dal mio punto di vista cominciare a cominciare a rigettare il nostro nazionalismo perché noi non siamo nazionalisti siamo internazionalisti cominciare a riflettere sul fatto che ogni nazionalismo è alla radice delle guerre dell'esclusione e del sangue che scorre allora significa che se si vuole essere realmente solidali con le vittime delle guerre non si può imbracciare una bandiera nazionale quindi questi movimenti che si sono mossi con bandiere nazionali sono movimenti che in qualche modo non rispondono a un'esigenza di liberazione non rispondono ad un'esigenza di salvaguarda della vita e della libertà di uomini e donne e bambini in quell'area che si tratti di israeliani che si tratti di palestinesi certo purtroppo la situazione è difficile lo sappiamo perfettamente al governo in israele c'è una banda di fascisti confessionali che non vedono l'ora di fare dal fiume al mare la grande israele sto travalicando che non vedono l'ora di fare dal fiume al mare la grande israele a gaza c'è una banda di fascisti confessionali che non vedono l'ora di fare dal fiume al mare la grande palestina io ho sempre trovato vagamente raccapricciante questo slogan from the river to the sea perché perché questo slogan che è diventato uno degli slogan più cantati nelle piazze dal fiume al mare la palestina sarà libera ma dal fiume al mare i nazionalisti israeliani fautori della grande israele ci vogliono fare la grande israele lo stesso slogan dal fiume al mare e tutta roba nostra e gli altri fuori fuori come eliminandoli facendoli fuori tutti qual è la vera differenza tra in questo momento tra israele e hamas israele ha i mezzi per farli fuori tutti e ci sta provando hamas vorrebbe farli fuori tutti ma non ha i mezzi per farlo anche perché israele gode di buone di buoni sostegni gode del sostegno degli stati uniti che ogni tanto li tirano orecchie ma sostanzialmente non li hanno mai mollati mentre tutti i paesi arabi tanto affratellati hanno altri interessi e alla fine al di là delle dichiarazioni formali di sostegno alla popolazione gazzawi non hanno mosso neanche un dito per sostenerla in nessun modo quindi ci troviamo di fronte ad una situazione assolutamente tragica e innegabilmente sbilanciata ma la domanda che noi ci siamo posti che ci siamo posti da anarchici abbiamo detto ma qual è lo spazio che possiamo occupare in che modo possiamo attraversare dei movimenti in modo che questi movimenti possano davvero rompere l'idea che il nazionalismo è l'unica risposta ad una qualche forma di oppressione e beh ci siamo chiesti tutto questo e ci siamo interrogati anche su alcune nozioni fondamentali importantissime come quella di decolonialità la decolonialità è un approdo radicale ed importante perché va oltre l'idea del postcolonialismo va oltre quelle che sono state le affermazioni di sé dei paesi ex coloniali credo che sia l'ultimo approdo di decostruzione di quell'identità rigida che si era affermata dopo le rivoluzioni liberali di quelle identità rigida del cittadino ma il cittadino era maschio bianco eterosessuale tendenzialmente europeo il cittadino teneva fuori le donne le identità non conformi gli stranieri i poveri il cittadino era un'astrazione escludente la storia della libertà nella nostra europa ma non solo qui è stata in parte la storia con la quale il cittadino è stato smontato e tutte queste identità hanno affermato il loro esistere come uguali nella diversità e diversi nell'uguaglianza questo percorso è stato un percorso estremamente importante e a questo si è aggiunto da qualche anno il percorso di soggettivazione degli ex colonizzati ma in questo percorso di soggettivazione è avvenuto qualcosa di molto strano qualche cosa che a me è capitato di sentire anche da parte di compagni che ti dicono va bene ma di fronte ai colonizzati di fronte alle persone razzializzate tu che sei bianca tu che sei europea tu che sei occidentale e beh tu devi stare zitta e devi stare ad ascoltare perché qualunque cosa dicono è il loro punto di vista e tu dici ma io mi devo sentire in colpa di qualche cosa allora bianca quando ero piccola mi davano della terrona e tanto bianca non mi ci sono mai sentita e nemmeno tanto a mio agio nell'identità che in quel momento era escludente all'interno della città dove sono nata che Torino occidentale di cosa stiamo parlando allora facciamo un passo indietro torniamo a quella cassetta degli attrezzi culturale quella nella quale quell'imbecille di bossi ha tirato fuori i celti e tutte quelle stronzate lì nella mia cassetta degli attrezzi nella nostra cassetta degli attrezzi c'è tale augusto masetti che nel 1911 chiamato a fare il soldato chiamato ad andare a invadere la libia fare la guerra contro i turchi per rubargli la libia per sostituire il dominio ottomano con il dominio italiano non ci pensò un attimo prese il fucile e sparò immediatamente al suo colonnello al suo colonnello ecco un buon esempio di collocazione anticoloniale ecco io noi siamo gli eredi di augusto masetti ma noi siamo gli eredi dei disertori che quando c'è stata l'espansione ad est se ne sono scappati hanno detto di no noi siamo con i disertori che scappano dall'ucraina e dalla russia noi siamo con quelli che disertano le loro guerre perché ci consideriamo disertori delle nostre guerre perché ci consideriamo disertori di ogni guerra e allora quando uno mi dice stai in ascolto dei dei popoli colonizzati dei popoli io sto in ascolto di che cosa emerge e nessuno ascolta perché qualcuno vuole dipingere questo mondo in bianco e nero bianco e nero i gazzawi tutti asserviti a damas gli israeliani tutti proni a netanyahu bianco e nero a seconda di come ci si colloca di come si guarda questo è il mondo ma in realtà basta grattare appena oltre la superficie si sa benissimo che in israele ci sono i refusnic quelli che vanno in galera perché non vogliono fare il militare non vogliono andare a combattere a gaza perché si rifiutano di andare in cisgiordania sappiamo benissimo che c'è gente che scende in piazza contro netanyahu da mesi e mesi e mesi ma è a gaza a gaza nel dicembre dello scorso anno due mesi dopo l'inizio dei bombardamenti ci sono state imponenti manifestazioni contro hamas perché si accaparrava l'elettricità perché si accaparrava le risorse è stato contestato l'allora ancora vivo capo politico a niè perché se ne stava al caldo in qatar mentre loro subivano le guerre la fame e la deprivazione non è vero che tutta la gente gazzawi è al fianco di hamas ma quando le maggiori potenze come il qatar sostengono hamas quando la turchia a sua volta governata da esponenti dei fratelli musulmani sostiene hamas allora tutti i soldi che arrivano in una scatola di sabbia dove ci stanno quasi due milioni di persone due milioni di persone senza prospettive senza lavoro senza nulla a decidere dove vanno questi soldi dove vanno queste risorse chi è hamas vuoi mangiare vuoi avere le medicine vuoi un po d'acqua chi è che te lo garantisce hamas e allora succede che una delle popolazioni più laiche di tutto il medio oriente quella palestinese poco per volta viene trasformata in una popolazione cosiddetta di integralisti islamici ma se si gratta appunto appena otto la superficie si scopre che dopo l'operazione piombo fuso alcuni giovani gazzawi fecero uscire un manifesto nel quale dicessero fan culo israele fan culo amas fan culo gli stati uniti fan culo tutti siamo stanchi vogliamo le nostre vite vogliamo essere liberi testo molto semplice ma in cui era evidentemente chiaro che questi giovani gazzawi non erano assolutamente appiattiti con quanto c'era intorno a loro e allora immaginarli appiattiti è comodo è comodo per quelli che vogliono sostenere che la resistenza palestinese è hamas è comodo per chi come gli israeliani prima hanno favorito la crescita di hamas e poi per poter dire che sono tutti integralisti sostenere che tutti che in israele sono tutti appiattiti su netaniao e i suoi alleati e i suoi alleati integralisti è altrettanto comodo perché così buoni e cattivi da una parte o dall'altra e allora no si tratta di grattare oltre la superficie e di dire esiste una possibilità e questa possibilità è chiara è la stessa che abbiamo noi in questo paese anche se piccola 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 dobbiamo ribellarci contro i nostri governanti dobbiamo ribellarci nel segno di qualcosa che è stato dimenticato la cesura di classe perché i padroni lo sappiamo non guardano in faccia i colori lenni e le lingue se gli conviene ci sfruttano tutti allo stesso modo dobbiamo immaginare a partire da quelli che in israele si ribellano contro netaniao a partire da quelli che a gaza si ribellano contro hamas pur in una situazione difficilissima un'alleanza trasnazionale degli oppressi e degli sfruttati non è un'utopia e l'unica possibilità non che hanno loro che abbiamo noi di poter immaginare un mondo diverso da quello del quale siamo forzati a vivere mi senti ok allora nel nello puscolo è presente anche una parte di ricostruzione storica delle vicende che hanno portato al alla contemporaneità che noi tutti vediamo e a cui assistiamo anche abbastanza schifati negli ultimi negli ultimi mesi ma anche negli ultimi anni questa parte questo capitoletto di ricostruzione storica che non può essere in alcuna maniera considerato esaustivo non vuole essere esaustivo perché chiunque si sia mai approcciato alla storia del conflitto arabo israeliano in generale la storia ma in generale qualsiasi storia sa che di certo non può esaurire la faccenda nel giro di poche pagine abbiamo scelto comunque di andarlo a inserire nell'ottica di dare un contesto un contesto sia sulla contemporaneità quindi per spiegare le scelte che sono state fatte dalla classe dirigente israeliane così come dalle classi dirigenti palestinesi che hanno portato all'attuale situazione negli ultimi 10 15 anni fondamentalmente così come anche per andare a dare una spiegazione a storicizzare e storicizzare significa anche decostruire perché la storicizzazione significa la decostruzione dei miti l'emito appunto le mitologie nazionaliste che diceva prima maria e in generale le mitologie che si sono un po costituite intorno a una questione che è diventata quasi un perno di molti movimenti in europa così come anche negli stati uniti a ondate cicliche ma comunque sempre presenti in maniera carsica negli ultimi a partire dagli anni 70 fondamentalmente andare a decostruire quel conflitto andare a costruire la storia di quell'area geografica ci permette di andare a scavare sotto la realtà sotto scusate sotto l'apparenza e la realtà come ci viene rappresentata come spesso ci rappresentiamo anche noi stessi perché noi stessi poi viviamo anche di miti se vogliamo e andare un attimino a capire effettivamente che cosa è successo per lo meno provarci ecco in questo secondo me si vanno a scoprire alcuni passaggi che tendono a essere un po dimenticati che in parte mi riaggancio anche a quanto diceva maria la nascita dello stato di israele nel 1948 è stato il momento culminante di quello che è stato un movimento nazionalista pure con molte peculiarità come quello sionista un movimento che si scrive dall'inizio all'interno del nazionalismo romantico tardottocentesco fondamentalmente che si interseca con la storia del movimento operaio europeo con delle grandissime ambiguità il sionismo ha diverse componenti nella componente che è stata quella maggioritaria che quella della sinistra quella che poi è stata rappresentata dal dal partito laborista in israeliano il mappam e tutti i suoi vari derivati mappai e compagnia così come ha avuto anche una componente di chiara ispirazione fascista il sionismo revisionista di jabotinsky che è quello che ha dato forza che negli anni 30 e 40 aveva come organizzazioni paramilitari l'irgun la banda sterne lei e compagnia e che poi successivamente è confluito in quello che poi è diventato il likud di mordecai begin e i cui attuali discendenti sono anche al governo e queste da queste due correnti storicamente presenti all'interno del del sionismo di cui quella socialista è stata la maggioranza fino alla fine degli anni settanta nel 77 c'è il grande ribaltone elettorale in israele che porta il governo il likud se ne va aggiungere anche una terza componente che in parte si intersega con la storia del sionismo revisionista ma che ha una diversa impostazione che quella del sionismo religioso adesso senza stare a fare una storia del sionismo religioso andare ad addentrarci nelle varie correnti del dell'ebraismo ciassidico e compagnia o anche delle le varie smerate anche se fardite che c'è una fortissima componente maggioritario forse anche all'interno del sionismo religioso contemporaneo ecco possiamo dire che se il sionismo religioso che negli anni trenta era rappresentato da una figura come quella del rabbi cook cook scusatemi era comunque molto minoritario a partire dagli anni settanta prende una sempre maggiore importanza all'interno della scena politica israeliana prende una maggiore importanza tra il gusce munin che è il blocco dei credenti blocco degli osservanti che è il fondamentalmente l'organizzazione del movimento dei coloni che è una cosa di cui si è parlato molto negli ultimi anni che è un movimento che ha una certa complessità in termini storici e su cui adesso dopo un attimo minimo di approfondimento vado a fare e che cresce nel corso degli anni ottanta pur rimanendo comunque ancora minoritario vi è questo apporto da parte di di canne rabbi canne che è stato un rabbino israele statunitense fondatore del caccio che era il partito nazionalista nazionalismo talmudico e che potremmo definirlo quindi nazionalismo con una fortissima componente religiosa negli anni ottanta e si afferma soprattutto negli ultimi anni in termini elettorali è un movimento che comunque all'interno di israele nel fino agli anni 2010 fondamentalmente era anche molto mal visto è il movimento da cui dalle cui frange dalle cui fila è arrivato l'omicidio di rabbi nel 94 da cui è arrivato l'attentatore della tomba della tomba dei profeti di ebron anche per il 93 erano quelli che negli anni ottanta complottavano per far saltare in aria la cupola della roccia con l'idea di andare a scatenare una guerra religiosa cioè parlano di gente che anche all'interno dello stesso israele erano guardati più o meno come potrebbe essere guardata forza nuova qua in italia ecco e questi vanno ad avere sempre maggiore importanza questo processo di radicalizzazione religiosa all'interno di israele e contemporanea anche un processo di radicalizzazione religiosa all'interno dei paesi arabi e in generale dei paesi del levante è un processo che a mio modo di vedere è figlio delle dinamiche del neoliberismo è un processo quello della nascita e del più che scusate non della nascita di questa espansione di questa presa di forza la parte degli estremismi religiosi che parte dalla fine degli anni settanta si espande grandemente negli anni ottanta parliamo degli stessi anni in cui attenzione anche in occidente succedeva qualcosa di simile gli anni ottanti sono gli anni in cui negli stati uniti la destra evangelica prende sempre maggiore potere prende capacità di influenza le anni della presidenza reagan sono gli anni in cui per la prima volta la destra religiosa evangelica va al potere negli stati uniti in maniera chiara così come ci tornerà negli anni della presidenza bush ma in parte anche comunque con la presidenza clinton comunque delle componenti evangeliche furono sempre ben rappresentate anche all'interno del del partito democratico sono gli anni in cui in paesi che noi spesso poco consideriamo brasile paese del o anche paese dell'africa occidentale viene a fortissima espansione della che è delle chiese evangeliche quindi parliamo di anni in cui la vi è un processo reattivo all'affermarsi del neoliberismo che lo accompagna ed è un processo reattivo che passa dall'affermazione di questo tipo di correnti religiose che vanno a fornire delle spiegazioni del mondo molto rassicuranti di fronte a un mondo che invece va a pezzi di fronte a un mondo che non ci si riesce più a spiegare la classe media statunitense impoverita a partire dalle crisi finanziarie degli anni 80 trova una propria consolazione nel cristianesimo evangelico la popolazione araba palestinese oramai rinchiusa all'interno dei recinti dell'apartheid con la cisgiordania trasformata fondamentalmente una serie di bantustan gaza in uno stato di assedio permanente da dieci anni comincia all'epoca non era ancora sotto assedio permanente parliamo degli anni 2000 comunque con un processo che aveva messo in crisi quella narrazione di liberazione nazionale dell'olp e che era finito con il sostanziale fallimento degli accordi di oslo domicilio di rabin già che poi sia l'accordo di di oslo ci sarebbe aprire anche tutta un'altra parentesi comunque lasciamo un attimo da parte ecco tutto questo fallimento di queste politiche portano all'affermarsi anche in palestina una popolazione che era storicamente laica di hamas piuttosto che la gira di islamica palestinese così come nel resto del mondo arabo nel resto del mondo arabo c'è questo fortissimo ritorno di fiamma dell'islamismo politico pensiamo alla contro rivoluzione iraniana del 79 parlo di contro rivoluzione perché la contro perché il movimento politico di comeini è quello che ha massacrato gli elementi rivoluzionari di sinistra sia quelli del tudè che era il partito comunista filo sovietico anche quelli di elementi consigliaristi presenti nelle shorass che erano i consigli di fabbrica in iran fortissimi cuore pulsante della rivoluzione nelle città petrolifere dell'iran e si vengono massacrati nel corso degli anni 80 ecco questa contro rivoluzione islamica si afferma pienamente in palestina e porta questa situazione attuale di stand off di mexican stand off per utilizzare un termine cinematografico in cui non c'è una reale via d'uscita che non sia lo sterminio reciproco d'altra parte vi è questo questo importantissimo elemento messianico presente sia nella narrazione del sionismo religioso nazionalista così come presente all'interno dell'islamismo politico palestinese ma non solo di quello palestinese questa attesa del ritorno del messia una visione escatologica in cui tutta la storia si andrà a risolvere in un conflitto finale che tra l'altro la visione che informa quella alleanza politica fra cristianesimo conserva cristianesimo evangelico statunitense e sionismo religioso israeliano perché tra l'altro il cristianesimo statunitense evangelico è profondamente antisemita ma assume degli atteggiamenti che viste dall'esterno sembrano quasi filosemiti ma che in realtà iscrivono la popolazione ebraica all'interno di una grande narrazione che si concluderà con la seconda venuta di cristo e quant'altro allora noi può far ridere perché uno quando legge di gente che si fa le pippe per contare i peli sulle vacche in israele per capire se è arrivato il tempo del messia o meno non sto ad approfondire la faccenda delle vacche rosse in israele che comunque è molto interessante per chi si interessa di questioni religiose però c'è gente che crede veramente in questo c'è gente che crede veramente in questo come c'è gente che nel mondo islamico crede veramente che l'anticristo utilizzo la traduzione orientale molto spuria l'anticristo ci sarà e sarà ebreo e bisognerà sconfiggerlo arriverà il momento in cui il dio sterminerà tutti gli impuri ebrei ecco c'è gente che su questo ci crede su questo ci crede le classi dominanti sono ben in grado di utilizzare questi strumenti poi sono strumenti che ogni tanto esplodono fra le mani perché non è che vengono creati a tavolino sono elementi appunto reattivi che ci sono stati però bisogna confrontarsi con la presenza di questi elementi profondamente irrazionali in definitiva sulla scena politica non solo di questi paesi ma anche dei paesi occidentali perché comunque questo tipo di visioni sono sempre più diffuse anche in europa il cristianesimo evangelico si è diffuso fortemente negli ultimi anni in europa e andarsi a confrontare con questi elementi è difficile è un richiamo di conseguenza a una cesura di classe quindi un richiamo degli elementi materiali degli elementi che tocchiamo con mano nella nostra vita nella nostra vita di lavoratori di sfruttati nella nostra vita di persone che hanno magari difficoltà di arrivare a fine mese ecco ripartire dalla materialità è quello che ci permette di comprendere che fra un proletario italiano un proletario palestinese un proletario israeliano un proletario statunitense non c'è questa gran differenza ci possono essere differenze culturali linguistiche ma chi se ne frega questi superano o si possono anche non superare però l'elemento di classe è un elemento invece forte è un elemento che incide nella materialità della nostra vita ripartire da una concezione internazionalista è necessario perché ci permette di fare a pezzi queste narrazioni che ci servono a rinchiuderci fondamentalmente nelle gabbie delle strutture statali e capitaliste e ora poi sulla ripeto da un punto di vista storico adesso non mi sono a dilungare eccessivamente perché sennò diventa una conferenza monotematica non mi sembra il caso ecco se uno vedere anche la storia israeliana in realtà la cesura di classe è stata ben presente negli anni 60 70 la componente misrahim che era la componente di ebrei sefarditi che erano ebrei che erano stati costretti all'esilio dei paesi arabi tutta la popolazione ebraica di origine medio orientale iemenita irachena che appunto nell'ambito della costruzione dell'identità nazionale partita attenzione non dal 1948 partita da prima partita con l'affermazione del nazionalismo arabo negli anni 20 coeva alla formazione del nazionalismo sionista queste popolazioni qua vengono costrette all'esilio dei vari paesi negli anni 40 nel 41 in iraq c'è il farud che è un la persecuzione della popolazione ebraica irachena che viene costretta all'esilio nel giro di pochi anni la popolazione iemenita ebraica iemenita anche lì nel giro di pochi anni costretta alla fuga idem in barocco algeria libia negli anni 60 eccetera ecco questa popolazione che migra all'interno di israele si trova costretta ai lavori più poveri e meno remunerati ovviamente sono gli ultimi arrivati anche lì vi è in parte anche una linea di cesura basata su una una delle forme di razializzazione presente all'interno comunque di una popolazione storicamente razzializzata come anche quella ebraica che era fuggita dall'europa post 45 e anche lì è presente questa cesura di classe che si è ben evidenziata nelle lotte portate avanti del proletariato israeliano in quegli anni poi con tutta la complessità di un paese in cui avevi uno stato partito sindacato che era il labor in quel momento però ecco la storia l'approccio storico stereografico interessante perché permette appunto di andare a smontare queste mitologie di andare a vedere che il quale si parla di israeliani di palestinesi e di arabi in realtà si parla di qualcosa di molto più complesso sono identità che all'interno dietro di loro nascondono delle moltitudini delle moltitudini culturali così come delle grandissime cesure di classe e il mio invito è sempre quello di insomma adottare questo tipo di approccio questo sguardo perché sbontare i miti sbontare le narrazioni è un primo passo per l'emancipazione di sia individuale che collettiva ecco prova 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 allora prova 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 ok ora sta andando facciamo facciamo un cambio prova 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 ok e sicuramente anche tutti coloro che hanno scelto di dedicare una parte significativa della loro serata per venirci ad ascoltare noi ci teniamo e quindi non era scontato e siamo contenti e sicuramente uno dei cercherò di tagliare un po più corto magari visto che si è fatto una certa uno dei punti che abbiamo toccato che abbiamo affrontato che abbiamo sviscerato nei limite dello spazio che avevamo a disposizione all'interno dell'opuscolo senza ombra di dubbio è quello dell'essenzialismo essenzialismo che si inserisce all'interno di un clima culturale che pervade in qualche modo la contemporaneità e che riteniamo abbia avuto e abbia tuttora delle ricadute piuttosto evidenti e negative anche su le pratiche le prospettive le analisi gli strumenti di lotta di cui si dotano quotidianamente i movimenti sociali e un clima che è caratterizzato da una tendenza sempre più marcata a ripiegare su un'idea di comunità chiusa comunità escludente quindi che si afferma nella negazione dell'altro e e quindi anche ripiegare su identitarismi su un'idea di identità forte che si configura in qualche modo come una reazione a una precarietà strutturale a una negazione del futuro che sono caratteristiche di un'epoca di capitalismo globalizzato e trionfante che definizione diamo di essenzialismo perché chiaramente non è immediatamente intelligibile o quantomeno non necessariamente immediatamente intelligibile noi scriviamo è un'idea secondo la quale esistono delle spiegazioni ultime oltre le quali non vi è più conoscenza possibile scriviamo verità definitive date una volta per tutte e poi aggiungiamo in grado di decretare l'oggettiva impossibilità del cambiamento cosa vuol dire perché chiaramente se una verità è definitiva pone una pietra tombale su qualsiasi valutazione critica giudizio insomma qualsiasi messa in discussione effettiva della realtà possono esistere diverse declinazioni chiaramente dell'essenzialismo la verità che discende dalla divinità quindi la parola di dio rivelata in un testo sacro può essere la verità che discende da una natura assolutizzata un ordine naturale che governa tutto noi in particolare ci con ci concentriamo perché riteniamo sia più utile per comprendere le interpretazioni della questione israelo palestinese ma non solo su un essenzialismo culturale cioè la cultura stessa elevata a essenza e cosa significa questo significa che sostanzialmente la cultura non è più concepita come qualcosa di dinamico fluido in continuo di venire meticciabile contaminabile quindi come la risultante dell'interazione tra le persone all'interno di un particolare contesto sociale ben situabile ben collocabile nello spazio e nel tempo ma in qualche modo si trasforma in un'entità monolitica cioè monolite sempre uguale a se stessa quindi rigida non contaminabile e in qualche misura questa concezione di cultura essenzializzata se già accennato in una misura o nell'altra va di pari passo va a braccetto si ancora a una concezione di popolo che intesa in senso interclassista come una costruzione omogenea uniforme una costruzione che persegue l'unanimismo e quindi di fatto nega al proprio interno cancella al proprio interno tutte le differenze sociali differenze di classe differenze di genere e via discorrendo e chiaramente ne consegue che sembra che esista una cultura con la c maiuscolo di un determinato popolo con la p maiuscola senza possibili scappatoie e se accettiamo chiaramente questa premessa questa interpretazione accettiamo anche l'esistenza in qualche misura di blocchi culturali omogenei immutabili che cementano come diceva in qualche modo anche prima maria l'immaginario nazionalista che conducono a delle forme di razzismo che non sono più il razzismo di marco ottocentesca quello quello scientifico biologico diciamo basato su una presunta superiorità genetica ma basato su una natura diciamo differenzialista cioè si considerano dei blocchi culturali che non si incontrano sono a compartimenti stagni quindi non c'è una reale commistione tra elementi culturali differenti ma oltre a questo vi è senza ombra di dubbio per arrivare più al nostro diciamo si delineano delle evidenti approssimazioni che per quanto riguarda ad esempio gli schieramenti i posizionamenti per quanto concerne il conflitto israelo palestinese sono sotto gli occhi di tutti diciamo anche se spesso e volentieri non si non si vogliono evidenziare che sono più utili diciamo ad oliare l'ingranaggio della propaganda piuttosto che portare avanti non solo l'idea ma diciamo la causa dell'emancipazione sociale perché nella narrazione diciamo dominante in campo propal nel campo di movimento sociale e vi è una pericolosa diciamo sovrapposizione ovvero ma anche questo in parte si è già detto ma secondo me vale la pena tornarci e i civili israeliani vengono molto troppo spesso secondo questa narrazione sovrapposti considerati alla stregua dei coloni piuttosto che alla stregua di sostenitori acritici comunque nei confronti del governo di Netanyahu delle politiche di occupazione delle politiche di massacro del popolo della popolazione ghazawi e dall'altra i palestinesi vengono considerati alla stregua appunto di sostenitori acritici fiancheggiatori nei confronti di Hamas che è un'organizzazione confessionale paramilitare fondamentalista islamica che non ha che anzi rappresenta in qualche maniera la borghesia locale non certo gli interessi dei proletariato palestinese che invece ha tenuto sotto scacco per lungo tempo e a questo ovviamente citare i rifiusnici israeliani che fanno obiezioni di coscienza che rifiutano il servizio militare opponendosi di fatto a queste stesse politiche quindi in controtendenza rispetto alle direttive belliche di governo è decisamente utile così come dall'altra parte citare i manifestanti che in tempi non sospetti quindi ben prima del 7 ottobre sono scesi in piazza al grido vogliamo vivere criticando fortemente le politiche di Hamas credo che sia decisamente importante così come importante contrastare quella che è di fatto la tendenza all'infantilizzazione e all'assimilazione della popolazione al proprio governo e alle sue politiche come stavo cercando di dire e a troppo spesso a sinistra soprattutto con uno sguardo a società che non sono occidentali ma anche alle nostre latitudini di fatto c'è una tendenza a considerare comunque gli individui come totalmente in balia del ambiente sociale e culturale nel quale sono inseriti con la conseguenza di fatto che vengono invisibilizzati tutti quei percorsi di lotta che si vanno a sviluppare in quegli stessi territori e se portiamo il ragionamento alle estreme conseguenze vale chiaramente per il conflitto israele palestinese ma senza buttarla chiaramente in cacciara vale anche per banalmente sottoscritto cioè nel senso se io mi identifico come anarchico quindi ho come riferimenti politici e culturali attingo a delle memorie che fanno parte della tradizione anarchica a definirmi dovrebbero essere molto teoricamente quelli e invece seguendo questo ragionamento chiaramente io non sono solo colpevole del colonialismo del passato coloniale italiano ma oggi posso essere tranquillamente assimilabile al fascismo meloniano piuttosto che essere considerato un sostenitore delle organizzazioni mafiose che più ne ha più ne metta cioè paradigmi culturali dominanti finiscono per definire la mia identità e l'identità di chiunque altro un'identità invece la cui costruzione dovrebbe passare inevitabilmente da percorsi di autodeterminazione individuale vale la la pena in questo senso spingerci un pochino un pochino un pochino oltre per quanto riguarda le anomalie diciamo di movimento nel senso che teniamo se teniamo conto per fare un focus più specifico della forza con la quale dalla fine del ventesimo secolo i movimenti l'ondata transfeminista queer ad esempio è riuscita a mettere in profonda discussione in profonda critica in profonda crisi il l'impianto diciamo l'ordine essenzialista che fonda e che sorregge il sistema patriarcale ecco secondo me invece non c'è stata una capacità di vedere in questo un parallelo con la gabbia dell'essenzialismo culturale della cultura elevata l'essenza dove di fatto il binarismo sessuale giustifica il binarismo di genere che si porta dietro una serie di stereotipi caratteristiche e ruoli che rafforzano l'oppressione patriarcale di fatto lo stesso fa questa tendenza appunto a considerare gli individui totalmente in balia del contesto culturale perché l'identità è comunque considerata un'identità rigida un'identità fissa un'identità congelata che in qualche modo essendo calata dall'alto assegnata dall'esterno finisce che l'individuo stesso si esaurisce in essa e ovviamente tutto questo risulta ancora più drammatico e più contraddittorio se teniamo conto ad esempio dell'indagine che possiamo fare nei confronti della natura stessa di Hamas del fascismo islamico perché da parte di persone di reti queer radicali il sostegno implicito verso chi nega di fatto identità e percorsi a queste stesse persone è ovviamente profondamente contraddittorio ricordiamo nella striscia di Gaza omosessualità e bandita per legge divina il matrimonio e la maternità per una donna sono considerate un destino naturale e viene di fatto relegata a garante della procreazione e del lignaggio. Esiste l'SSG che è una rete di intelligence che risponde a Hamas che ha diverse funzioni tra cui anche la funzione di polizia morale per cui appunto viene indagata e perseguita quella che è l'integrità delle donne, si cerca di far rispettare delle norme di decoro che hanno, trovano una corrispondenza con la morale islamica e chi non le rispetta di fatto viene perseguitato, viene torturato, viene ucciso. Ovviamente in tutte queste contraddizioni uno si deve chiedere se ci sono delle vie d'uscita, in parte le abbiamo già indicate, io sono abbastanza convinto che riconoscerci tutto quanto come degli agenti potenzialmente trasformativi del contesto nel quale siamo forzatamente inseriti e quindi di fatto sentirci sì, certamente siamo attraversati, siamo influenzati da questo contesto ma non ne siamo mai integralmente determinati e determinate. E dall'altra chiaramente cercare di assumere politicamente un'impostazione che sia coerentemente rivoluzionaria e ovviamente nel nostro caso noi ci leghiamo a 150 anni di tradizione del movimento anarchico sociale che fa propri valori dell'internazionalismo e dell'opposizione, ferma opposizione, contro qualsiasi forma di oppressione e di sfruttamento a tutte le latitudini, senza frontiere, senza confini e soprattutto direi anche senza reticenze, senza nessuna omertà e compromesso. E noi chiudiamo per l'appunto il nostro documento, parafrasando il compositore austriaco Gustav Mahler che scrive per l'appunto che tradizione non è vegliare le ceneri ma è tramandare il fuoco. E da qui appunto il titolo del nostro documento. Grazie, ho cercato di essere il più possibile sintetico. Grazie. 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 Grazie.